ragazzi e ragazzi rieccoci in questo nuovo video su fortnite la modalità 50 contro 50 forse la più giocata di fortnite ed è veramente bellissima e insomma lo smette più di giocare come vediamo il pullman sta in questa direzione il pullman nemico nell'altra noi scegliamo qui il corso commercio quindi buttiamoci subito vediamo la safe dove schiude ovvero la cerchia della tempesta che si può aiutare in questa linea schiude nelle vicine anzi bene in magazzino muffito quindi là praticamente la nostra a destra ci sono anche delle missioni da completare ma poco mi importa perché altro non importerebbe fare una kill almeno in questa partita ieri ne ho fatte addirittura tre in una sola non so come ho fatto ma iniziamo con lo scrigno che ci offre i mini shield da usare subito ragazzi insomma io non posso chiedere di meglio le pistoline doppie valgono molto di più scegliamo un pompa che però non usiamo tante munizioni soprattutto riferimento di munizioni e poi questo ragazzi questo è quello che ci voleva scudo 100 vita 100 insomma la partita sembra andare nei migliori modi ma insomma poi vedremo come andrà più avanti eccoci ragazzi beh insomma guardate un po' doppio scudo la 50 3 mini shield 15 vende pistoline viola e un fucile d'assalto insomma è materiale che ce n'è in abbondanza insomma sono messo bene ma quello che più conta adesso è fare almeno una kill cosa che per me è già un'impresa vediamo il territorio nemico è il 27.6 siamo sotto il che non vuol dire promette male eccoli la noi pidiamo anche i nemici insomma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo è mio, questo è mio. Devo usare assolutamente lo scuro. E facciamoci cento di scuro ragazzi, è fondamentale. Grazie a tutti. 16.23 e la kill è stata fatta un po' in maniera decisamente affronta, ma chi se ne frega. Fino adesso sono stato fortunato nelle altre partite e proprio quando decido di girare questo video mi capita una kill. Sicuramente dei riflessi pronti perché non era facile. Guardate qui, il ben di dio che c'è. Io e lancerò... Ma in verità quello che più mi serve sarà... Ma in verità è stata fatta un po' in maniera decisamente affronta, ma è stata fatta un po' in maniera decisamente affronta. E' stata fatta un po' in maniera decisamente affronta. E' stata un po' in maniera decisamente affronta, perché non è cục c'è di colpa di più, ma... Purtroppo non ci sono delle munizioni per rilanciaraggi. Sì, sì, sì. Ecco, li vediamo in alto adesso, abbiamo capito dove sono in alto Sicuramente una posizione di loro vantaggio, ma eccolo che arriva nel medio Ucciso, mamma mia Pericoli Olfandato Oh Quanto la duro male 10 a 16, partita comunque tirata Ecco, li va dall'alto delle loro grinfie Mamma mia Quanto me la sono vista brutta e continuo a vedermela brutta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Oh my god, oh my god Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No, un cecchino però Ragazzi Niente, va bene Ci sta Niente, questo è quanto Abbiamo terminato la partita Da secondi posizionato Con una kill Quello che contava era quello Potevo farne altre Forse sicuramente sì Però vabbè Diciamo che Mi rammarico semplicemente Per non aver fatto Più di una kill Che in questa partita Era possibile Spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale E mettete un like Se vi è piaciuto il video Alla prossima